melito portosalvo 2 agosto 2014 e domenico salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione siamo in compagnia della poetessa daniela ferraro andiamo a parlare un po di poesia daniela ferraro è nata all'ocri dove tuttora risiede ha conseguito la laurea in lettere classiche presso l'università di messina vincitrice di cattedra per le scuole medie inferiori dove ha insegnato italiano e storia per circa 15 anni si è poi dedicata all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole medie superiori e scrittrice e poetessa per vocazione all'interno della sua poesia l'amore verso la cultura classica si fonde con la lucida consapevolezza del male di vivere dell'uomo moderno dando così vita a versi intimistici ora sommessi e pagatamente sensuali ora accesi e vibranti ma sempre perfettamente nitidi equilibrati e permeati di una gradevole musicalità che stempera e appiana anche le punte più ardite e all'interno dei quali l'io superato l'autobiografismo riesce a farsi interprete di sentimenti ed emozioni universalmente condivisi la sua prima raccolta di liriche e icaro rupe mutevole edizioni 2011 ci vuole leggere qualche poesia qualche lirica buongiorno a tutti come stava dicendo signor domenico salvatore ho pubblicato icaro come primo libro il secondo questo icaro infatti ve lo mostro rupe mutevole edizioni e a distanza di un anno il secondo libro cerchi concentrici sul cadere dell'alba con la casevitrice a letti edizioni attualmente in preparazione un terzo libro per quanto riguarda la mia attività posso dire che le mie poesie seguono un iter un percorso partito con icaro continua in cerchi concentrici e ancora continuerà nel terzo libro che per qualche mese dovrebbe vedere la luce cos'è questa ricerca? si tratta di una ricerca interiore nelle difficoltà del mondo d'oggi che ci opprime la ricerca di una via d'uscita che vada dall'osservazione della realtà torni indietro nel mondo dei ricordi porti noi stessi a un continuo confronto con gli altri o con la vita in genere cercando in questo modo appunto come dicevo prima una via d'uscita nel primo libro icaro come dicevo prima il titolo parte dall'eroe mitologico icaro che con le ali di cera spiccò il volo verso il sole ma purtroppo cadde nel mare che da lui veniva preso il nome il maricario infatti il libro un po' la simbologia di questo volo il desiderio di evasione il desiderio di librarsi al di sopra della vita quotidiana con i suoi problemi i suoi fanni le sue problematiche la caduta che inesorabilmente alla quale inesorabilmente non diamo incontro ma anche sempre una volontà di risalita cerchi concentrici riprende il discorso iniziato con icaro continuando sempre in questa ricerca che questa volta però si allarga da un mondo interiore al mondo che ci circonda fatto dei battiti dai sorrisi dalle intemperie della natura natura che diventa ancora più che in icaro un correlativo oggettivo di stati d'animo l'animo infatti io non scrivo direttamente le mie emozioni ma tendo sempre a trasfigurarle attraverso la natura attraverso in generale degli elementi oggettivi che ci circondano la finalità sia sempre quella di trovare una via d'uscita ecco professoressa diventare poeti e poetesse in una terra difficile come la Calabria dove leggono soltanto tra il 5 e il 7% è difficile comunque la poetessa Daniela Ferraro ha conquistato questo status perché ha pubblicato diversi libri e comunque ha al suo attivo anche diversi premi ce ne vuole parlare? eh sì non ho partecipato a molti premi veramente perché mi piace scrivere per me stessa per far riconoscere la mia poesia attraverso i libri e attraverso le molte antologie sulle quali pubblico e comunque mi è piaciuto quella partire da un paio di anni fa partecipare a qualche concorso ma devo dire che ho avuto delle belle soddisfazioni come libro ho presentato Cerchi concentrici il secondo al concorso internazionale di Massa Carrara e ottenendo il premio speciale della critica lo stesso libro l'ho presentato a Città di Parete Caserta dove ho avuto il piacere di vincere il terzo premio ho partecipato anche a qualche concorso di poesie in generale di recente ho vinto il primo premio a che seguo a Rugudi il quarto premio a Vibbo Valencia un quarto premio a Marino vicino Roma ho vinto un sesto premio presso il premio Aldamerini a Catanzaro e così via e con riconoscimenti che vanno da un quarto terzo il piacere del primo premio di regente e principalmente il piacere del riconoscimento della qualità dei cerchi concentrici con i due concorsi di Massacarrara e di Città di Parete ma perché si scrive una poesia qual è la molla che fa scattare il meccanismo guardate per me scrivere poesia come dicevo prima scaturisce da un bisogno di ricerca interiore ho cominciato un po' timidamente con Icaro per poi riprendere in modo più vigoroso con cerchi concentrici e su queste vie continuare con il terzo libro che adesso è in preparazione scrive poesia per comprendersi per chiarirsi il poeta almeno nel mio caso non ha nel momento in cui scrive un mondo interiore già pronto preparato da servire ai lettori ma presenta una sua ricerca a volte anche tormentata affannosa presenta appunto il frutto di questo suo arrovellarsi perché spesso si arrovellano cerchi concentrici per esempio come brevissimo pittore Antonio De Blasi ha illustrato nella copertina si può vedere facilmente la copertina abbiamo una donna al centro di cerchi concentrici il centro è il cuore l'affanno dell'amore il rigirare di continuo intorno a questo affanno che poi ti fa venere anche il negativo il resto che ti circonda quindi il desiderio se Nicoro era delibirassero di sopra in cerchi di poter superare questo stato questo modo di essere sempre la ricerca di un'interiore libertà e questa ricerca continuerà ancora infatti le mie poesie si leggono di seguito prima Icaro poi cerchi e all'interno dei libri stessi una poesia dopo l'altra come io l'ho disposto in ordine perché ogni libro infatti è una storia come se fosse una storia inversa una ricerca che inizia e poi continua e ogni libro termina a un approdo per quanto momentaneo che però lascia sempre ancora spazio al proseguo della ricerca ecco il cuore l'anima callio perato insomma cosa c'entra tutto questo la voce del nisseno mi ha definita una decadente neoclassica forse un po' è vero nel senso che il linguaggio della poesia non è il linguaggio della vita di tutti i giorni del resto io penso che la poesia non debba usare il linguaggio di tutti i giorni è un linguaggio molto particolare ed è molto musicale c'è una profonda musica nelle poesie sono piuttosto leggere si leggono velocemente come ha scritto Lorenzo Spurio della rivista Terpe di Ancona sembra che questa musica di Nidondi per tutta la stanza i contenuti sono decadenti per quanto lo stile quindi appaia un po' neoclassico per quanto musicale i vocaboli non sono i vocaboli di ogni giorno però l'emotività la ricerca gli affanni sono proprio quelli del mondo d'oggi una strada fusione fra decadentismo e neoclassicismo che io opero nella mia poesia che quindi è solo da modelli particolari da un modello ma un po' il frutto di tutta la mia conoscenza letteraria di una rielaborazione e quindi di un'espressione del tutto profondamente personale ecco un vecchio proverbio latino dice unus quisque faber est fortune sue Daniela il proprio destino sì Daniela Ferraro non nasce come fungo dal bosco naturalmente perché il DNA cammina e figlia del celeberrimo possiamo dire così inventore del premio giugno Locrese ce ne vuole parlare? sì molto volentieri mio padre è una persona che ha dedicato la sua vita alla cultura possedeva infatti tre lauree era laureato in lettere classiche era laureato in legge e in scienze politiche esercitava la sua attività di docente presso il liceo classico di Locri ma in contemporanea anche l'attività di giornalista presso importanti giornali come il giornale di Italia la gazzetta del tempo perché purtroppo è morto moltissimi anni fa quando avevo a malapena 17 anni nel libro Cerchi Concentrici infatti c'è una poesia che lo ricorda seppure indirettamente ricordo mio padre sempre vivo mio padre che ha fatto tanto per la città di Locri da organizzare addirittura la festa di paese alla creazione di quello che è stato il primo concorso letterario della zona in assoluto che annoverava partecipanti anche frattori stranieri e cioè il giugno Locrese racconto intorno a sé una giuria di persone di alta cultura basta pensare al professore Gaudio Incorpora o molt'altro Irocades braccio destro la signorina Mileto l'avvocatessa Olga Tallarida e qui era un tosto ragazza quindi adesso non ricordo bene ma ricordo il fervore che c'era a casa mia quando si preparava questa manifestazione una manifestazione intendo dire solo ed esclusivamente culturale non assolutamente politica come succede purtroppo adesso spesso troppo spesso ma una manifestazione in cui si celebrava solo l'arte la cultura presenti anche i pittori presenti i scultori presenti i poeti che leggevano la loro poesia la cultura era il cuore ed era l'unico centro di questa manifestazione che poi sempre a tempi di mio padre si arricchiva di musica di fuochi d'artificio e altri momenti gradevoli come per esempio la fine la serata danzante tutti i giovani erano presenti a parte l'interesse c'era anche il settore giovani del premio culturale ma anche la piacevolezza che poi alla fine si ballava quindi era un premio per tutti dall'età più adulta all'età più giovanile ma quello che ripeto molto bello era cultura era poesia era pittura ricordo Tina Sacco ricordo Toni Custureri ricordo il pittore Trifoglio il pittore Bonfà che con la loro arte con i loro quadri arricchivano ancora di più con momenti meravigliosi ecco una donna di multiforme ingegno una come si dice oggi un personaggio polivalente poliedrico infatti non è solo una docente delle scuole superiori ma è anche poetessa ed è anche scrittrice saggista anche giornalista se ne vuole parlare? sì in effetti io non riesco a fare una cosa sola il problema è trovare il tempo perché è già l'insegnamento specie in una scuola un po' difficile quello può essere l'istituto professionale prende molto tempo però come dicevo mi diletta fare un po' di tutto addirittura già nelle scuole ho cominciato con lavori particolari tipo scrivere testi documentari della zona infatti abbiamo elaborato un testo su Castelli le vela locride un altro testo sull'antica locri e così via sessurevi soggetti di lavori teatrali che hanno avuto anche un certo successo testi sceneggiatura anche di un film poi andando avanti sono dedicata alla poesia ma anche in contemporanea alla narrativa ho presentato una volta solo un racconto a un concorso anni fa quello di Pompei e vinsi un terzo premio poi nel momento che mi piace scrivere anche in prosa ho partecipato ho scritto per ben due anni sulla riviera ogni settimana e attualmente scrivo sulla rivista culturale Cesar Online che di recente ha avuto anche un importante premio alla cultura alla diffusione storica si va a reattività si scherseggia il tempo un po' qua un po' là la posizione principale chiaramente è sempre la poesia e quando finisco il discorso con la mente arrivo a un punto d'approdo termino un libro e lo pubblico ma attualmente il terzo libro è pronto momento di sosta sembra scriverò qualche altro articolo e verrà fuori questo terzo libro per poi ricominciare perché purtroppo la ricerca non si conclude mai però è importante farla perché ogni libro è una tappa della mia vita le posizioni sono piuttosto autobiografiche però appunto si possono identificare un pochino tutti perché è un po' tratta quelle problematiche che investono tutte le persone non solamente io in particolare mi piace appunto farmi interprete di queste problematiche parlare alle persone farle identificare come loro stesso dicono mi identifico in quello che scrivi questa è una cosa molto importante è come prenderle per mano e quindi non fare il mio percorso da sola ma poter camminare insieme in questa ricerca che ogni volta va sempre avanti e ogni volta conquista una piccola tappa in una strada però è chiaramente lunga che può durare un'intera vita ma l'importante è non stare fermi l'importante è sempre continuare andare sempre avanti arricchendosi sempre di nuove esperienze che impongono nuove meditazioni e quindi ogni volta segnare una tappa nuova di questa ricerca un traguardo che non è mai definitivo e quasi lo fosse del resto la vita sarebbe finita no? perché la vita è una continua ricerca un paese di navigatori musicisti poeti scrittori a chi rivolgersi se non all'editore parliamo un attimino di questo rapporto tra i potenziali scrittori o scrittori anche affermati e gli editori perché in Calabria ce ne sono di editori anche coraggiosi che sanno ragionare anche in prospettiva ma è pur sempre un discorso economico e qui le dolenti note le dolenti note se non fosse un discorso un po' economico complesso pubblicherei anche un libro all'anno e purtroppo noi poeti ci troviamo della difficoltà di dover pagare anche salatamente le nostre pubblicazioni per cui parte la ricerca dell'editore che non deve essere solo quindi mirata un bravo editore ma anche un editore che ci dia la possibilità di non spendere in modo eccessivo purtroppo le spese ci sono sempre e quindi le pubblicazioni sono più rade potrei anche pubblicare molto di più però vado sempre lentamente è un po' strano perché a un certo punto una persona scrive è un lavoro che l'autore dà deve anche pagare pagare salatamente forse c'è un'inflazione di poeti quindi chiaramente gli editori quando l'offerta sul mercato è troppo forte allora bisogna non vogliamo fare la parte dell'avvocato del diavolo o passare da Lausanna al Crucifige nei confronti degli editori perché hanno pure loro delle spese certo hanno anche le loro spese ma comunque mettiamo un prezzo molto alto poi la percentuale è bassissima e poi l'acquisto a metà prezzo del libro chiaramente che scrive poesie e deve faticare per poterle pubblicare deve avere un minimo di possibilità deve poi faticare a vendere un libro libri che poi costano poco ecco prendiamo Icoro costa 10 euro prendiamo cerchi concentrici ne costa 12 ecco il prezzo è sempre molto basso e nonostante la vendita è bassa nel mondo d'oggi sembra che la gente non ami più tanto la poesia ecco bisogna trovare proprio quelle persone dall'animo particolare anche di una cultura particolare e devo dire che ho avuto tantissimi acquirenti veramente amanti della poesia per se andiamo alle persone in generale l'amore è un pochino più basso quel momento meditativo questa vita che ci fa fuggire da una parte all'altra mi siedo mi leggo una poesia non le fanno molte persone questo si possono stampare in proprio i libri eh sì però la diffusione poi rimarrebbe piuttosto scarsa con la casa vetrice ti permette di diffondere un po' non solo in Italia anche in tutta Europa ti mette il libro su diverse pagine le manda in rete i miei libri li ho pubblicizzati ovunque stampando in proprio rimanerei solamente localmente ecco in conclusione se ci può leggere una sua una due liriche e intanto diamo un'occhiata pure a quanto scrive nella prefazione Silvia Denti la marea di immagini si distilla lenta e avvoragine come fosse un vulcano che si apre con immense braccia a cerchi dalle quali entrano ed escono emozioni trasformate prima livide e poi finissime e delicate a tratti inattaccabili etere meravigliose sulle pagine candide spiccano come folgori le trapitture quei pensieri resi poesia accentano i tratti del dialogo che l'autrice desidera per sé inconsciamente instaurare con il lettore e mettere sul tavolo la propria coscienza sezionarla e riviverla assieme a coloro che vogliono avventurarsi in questo viaggio intimo e universale un cammino che diviene artefice e motivazione di ricerca eccetera eccetera adesso se ci vuole leggere qualche ci vuole leggere come dicevo prima con il possibile vanno lette di seguito seguono un discorso dalla prima all'ultima di seguito e poi i libri di seguito è un po' difficile ma beh sono tante tutte bellissime però diciamo una o due le possiamo pure leggere dai sì quindi le prendiamo così a caso ma ripeto vanno lette all'interno di un discorso trattano un po' di tutto è presente l'amore è presente una meditazione di carattere esistenziale un po' allegra in momenti felici tristi e poi sia in cui l'amore è vissuto come gioia all'inizio di Icaro ma che poi diventa anche dolore specie in cerchi concentrici in cui però che non rifugia però da momenti di alta passione e con l'autismo anche quella presente a tocchi nella mia poesia e dicono che posso dire possiamo vedere un attimo una poesia una di quelle poesie in cui mi piace fermare un attimo un momento particolare le poesie di Icaro rispetto a quella di cerchi sono un pochino più brevi più ermetiche vediamo il momento del bacio sono ferventi attimi in cui spetti il bacio penetrare il mistero di labbra cesellate che tacciono ferventi attimi e mordo il labbro irrora la saliva l'asciutto desiderio gemmano gli occhi nel vago pullulio di universi inattesa baciami un'altra poesia di di Icaro vediamo un poco Icaro ha una particolarità non le leggo troppo lunghe che ha in appendice quattro fiabbe mentre le altre poesie sono tutte in versi liberi le fiabbe proprio per dare un più sapore ad antico sono in versi classici a rima alterna abbiamo Selena di cui anche un video finalista al festival di Pizzefiri e quarta classificata al premio di marino vicino Roma o il dittico della fata nera con principessa nel bosco e la fata nera e quindi l'inanano alla luna è la particolarità di questo libro per il resto le poesie come ripeto sono possiamo estrapolare qualche cosa anche da cerchi concentrici in conclusione allora possiamo andare a cerchi concentrici dicono la presentazione di Silvia Denti come ha letto Domenico Salvatore di cerchi concentrici la presentazione di Alberto Trifoglio pittore di Sant'Ilario che adesso vive ad Empoli però che spesso ritorna dalla sua terra e altrimenti presidente di Cercarti figurative di Empoli prima parlavo di mio padre e di una poesia scritta nel suo ricordo che volentieri vorrei leggere la trovo un attimo titolato Il cortile più non allieta il profumo del tiglio il cortile in cui assorto sedevi alta la fronte irrugosi pensieri Gaio correva tra bionde trecce il mio sogno di bimba fugge il verde dagli occhi sgretolo l'oleandro ovattato sentore nel riposto cortile dove ora contendo l'austero grifoglio dell'estate mancata il legnoso sospiro leggiamo una passionale che ne dice Domenico alterniamo alterniamo anche se nelle sue poesie mi sembra di scorgere un attimo l'ottimismo e poi anche una vena di pessimismo ma pessimismo mai anche nelle poesie tristi le poesie tristi sono uno specchio della vita in effetti ma abbandonarmi completamente assolutamente mai descrivo la vita per cercare sempre di superare l'affanno della vita no pessimismo no fuochi arditi erano fuochi arditi lingue di danze spettrali al lume di mai sopitamente era il frangente tumescenti di spruzzi in ombra al cielo era il muggio del vento sulla rada pianura in corsa folle incontenibile di dissennato arcano cieco e discinto ardente desiderio stracciate vesti di codico ritegno infame implora vorrei leggere mi rigestivano così mi ha dato molta soddisfazione ho avuto anche un premio di recente immaginiamo seduta in una panchina in una villa in piena estate tutto sembra come ogni giorno invece no quel giorno senti qualcosa di diverso e ti accorgi del male del vivere come diceva Montale eppure è sempre uguale lo zempillio tra il verde di panchine a fosse ed ozio al sole brusio di bimbi dietro il goffo pallone che tra maldestri rami impiglia il grido scricchi di fari su rotte ebbre sopra fumose strade di là curve d'azzurro di un mare accoccolato all'orizzonte di qua tetti assembrati sopra smalti di case da sbiaditi portoni saggronda il cuore stranito in segue disparuti piccioni zoppi voli bene siamo in conclusione passiamo ai saluti ringraziamo innanzitutto la professoressa poetessa Daniela Ferraro poetessa Locrese ringraziamo telemelito radio studio 95 internet youtube facebook il direttore Bruno Taverna e la linea può tornare allo studio numero uno I love that.